È stata una partita tosta, lo sapevamo, però in casa nostra è un furtino noi a Napoli. È stata una gara difficile, momenti dove abbiamo un po' sofferto, però alla fine abbiamo meritato di vincere. Si è visto che tutte e undici, anche quelle della panchina che è subentrata, ha dato la carica alla squadra. Siamo allenate bene e questa è la dimostrazione, il risultato ci ha dato ragione. I margini di miglioramento ci sono sempre perché bisogna sempre migliorare. In trasferta è un nostro, diciamo, pecchiamo un po', infatti il prossimo anno dovremo migliorare questo. Però stiamo lavorando bene, lavoriamo tutti unite, un bel gruppo, quindi c'è solo da dimostrare in campo quello che facciamo durante la settimana. Sono contenta sia per il gol perché prima in casa, dopo tutte queste partite sono riuscita a segnare in casa e sono contenta, ma l'importante era vincere oggi e l'abbiamo fatto in una buona prestazione di squadra.